Coach Marchiaro, allora quest'oggi una partita veramente tiratissima contro Cuneo, come succede spesso negli scontri diretti fra queste due squadre, quest'oggi che cosa è mancato secondo lei alla sua squadra? Ho mancato che di là c'era Cuneo, sono contento perché ci tenevamo a fare una bella partita, siamo la prima squadra che gli strappa un set e per poco gli strappavamo due, poi da lì chissà perché la pressione sarebbe passata loro, qua si giocavano un bel pezzo del campionato, però devo fare i complimenti a loro e soprattutto alla mia squadra perché era importante oggi tenere questo livello, una squadra che ha mezzo piede in Serie A1, dico mezzo che non gli voglio portare tutta, è ancora lunga, però comunque sono lì quindi niente, sono soddisfatto, sono mancati dei piccoli dettagli, qualche errorino nei momenti decisivi, però non è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo direi. Ecco, a Sprazi comunque avete mostrato veramente un'ottima palla a volo come ha detto lei contro una squadra che è veramente una corazzata, quindi insomma anche in vista di queste ultime partite di stagione avete dato degli ottimi segnali. Sì, siamo in linea con il giorno d'andata, quindi vuol dire che siamo migliorati, che sono migliorati tutti, quindi questo campionato se abbiamo fatto lo stesso vuol dire che siamo cresciuti e lo dimostra questa partita, è incredibile che oggi abbiamo raccolto tanto come esperienza e ce lo portiamo ancora nelle ultime tre partite intanto e poi chissà. Ecco, a proposito di queste ultime tre partite, che finale di campionato sarà per Collegno? Sarà durissimo, Olbia è un campo che è diventato non ostico di più, hanno recuperato un po' di giocatrici e penso che domenica si giocheranno la salvezza matematica, perché poi hanno la pausa e forse l'ultima con Cuneo, e per Olbia sarà l'ultima possibilità. Il gioco della pressione farà tanto, noi stiamo giocando sereni, siamo tranquilli, quindi sono molto fiducioso. Poi abbiamo un derby e poi un'altra trasferta durissima a Marsal, quindi è un finale veramente ostico, però se giochiamo così sono tranquilli.